La consulta giovani ha premiato gli studenti piemontesi che si sono distinti nei corsi di formazione di guida sicura sui veicoli a due ruote rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I corsi, che hanno coinvolto circa 2.400 ragazzi, si sono svolti su tutto il territorio regionale, con una parte teorica e una pratica che si è svolta con scooter elettrici a bassissimo impatto ambientale.